E ciao a tutti amici e amici di Inside 2 Games, benvenuti in un nuovo video raga, oggi siamo qui per parlare della tanto vociferata Nintendo Switch Mini che Nintendo attraverso i propri social e tramite un direct sul sito ufficiale ha ufficializzato nome, prezzo, data di uscita e le caratteristiche prima di parlarvele però, sigla! Beh che dire raga, prima di tutto voglio già specificare questo che prima ve ne parlerò, parleremo brevemente delle caratteristiche e poi dopo dirò una mia opinione personale Allora innanzitutto ho ufficializzato che dal nome Nintendo Switch Mini è stato cambiato in Nintendo Switch Lite anche perché i rumor dicevano che essenzialmente è una Nintendo Switch Mini però Nintendo ha ufficializzato che non si chiamerà un po' come fa Xbox che prima si chiama in una maniera, poi una volta ufficializzata la console il nome è un altro però già i rumor erano giusti perché anche tramite altri siti dove si acquistano accessori per i device, per le console già c'erano addirittura le custodie, i Joy-Con eccetera però adesso ne parliamo raga innanzitutto parliamo delle caratteristiche principali perché siamo passati da uno schermo rispetto alla Nintendo Switch Standard che era 6,2 pollici ad una conversione a 5,5 pollici quindi non più grande di un tablet o di uno smartphone e da un peso rispetto alla Nintendo Switch Standard di 398 grammi a 275 grammi quindi ricapitoliamo Nintendo Switch Standard lo schermo è di 6,2 pollici invece su Nintendo Switch Lite avremo uno schermo più ridotto da 5,5 pollici e da un peso rispetto alla Nintendo Switch Standard di 398 grammi ad un alleggerimento di 275 grammi quindi sarà più leggera e più piccola ma questo ovviamente essendo già dal nome Lite si poteva intuire il processore sarà sempre un octa-core con 4 giga di RAM 32 giga di memoria interna espandibili fino ad un terabyte tramite SD quello è una cosa diciamo rimasta invariata e poi raga un'altra cosa non sarà possibile estrarre i Joy-Con infatti i Joy-Con sono già integrati sul nostro device quindi non sarà più possibile estrarli mentre io sto parlando vi farò vedere delle foto per farvi capire non sarà più possibile estrarre i Joy-Con per giocare giochi con portabilità tipo come One to Switch e quindi diciamo questa è una cosa che per i fan ha fatto un po' sorcere il naso perché dall'altro canto anche tramite Direct si confrontavano alcune persone che dicevano io non li ho mai estratti per giocare invece altre persone che dicevano io li ho sempre estratti anche per giocare ad armi quella specie di gioco sportivo tipo box per Nintendo Switch proprio per giocare a One to Switch anche se non sono niente di che questi giochi raga non lo dico io ma lo dicono proprio i siti e i fan però d'altro canto è una cosa raga che io sinceramente non la capisco poi un'altra cosa fondamentale che è stata cambiata non sarà possibile utilizzare la nostra Nintendo Switch Lite tramite il dock quindi anche se noi saremo già in possesso di un dock non possiamo utilizzare la nostra Nintendo Switch Lite né tramite dock né tramite un cavo HDMI quindi non possiamo collegare la nostra Nintendo Switch al televisore quindi diventa proprio una portatile a tutti gli effetti una console portatile proprio al 100% perché se mentre la portabilità della Nintendo Switch standard era anche quella di posizionarla nel dock collegata alla TV e quindi potevamo anche giocare nella TV invece nella versione Lite questo non sarà possibile infatti non possiamo neanche collegare un filo cablato tipo per andare più veloci su internet e avremo solo la possibilità di collegarla tramite Wi-Fi un'altra cosa raga che è stata che è stato modificato un po' essendo il fatto che non si estraggono i Joy-Con bisogna vedere adesso quando si acquista un gioco quando si acquista un gioco un Nintendo Switch girarlo e vedere la portabilità dietro perché se alcuni giochi hanno bisogno come stavo dicendo della portabilità cioè estrarre i Joy-Con appoggiare la console su un piano siccome per chi è in possesso di una Nintendo Switch sa di cosa sto parlando addirittura la Nintendo Switch standard dietro ha una specie di leva che sollevata si mette in questa posizione tipo e ci permette di appoggiare la nostra console sul tavolo guardare lo schermo e giocare sia per i giochi portabili c'è tipo One to Switch e anche se noi giochiamo ad un Breath of the Wild c'è un Zelda siccome questo non sarà possibile bisognerà comprare per forza dei Joy-Con a parte collegarli al dispositivo però poi bisogna vedere come mantenere il dispositivo in piedi perché siccome non ha la levetta anche quello sarà un po' sarà un po' strano ovviamente sono rimasti invariati i slot per quanto riguarda jack audio il tasto del volume il tasto del volume per alzare e abbassare il volume e il tasto ovviamente On-Off e l'ingresso USB Type-C microSD sul fondo queste diciamo sono caratteristiche insieme al processore Octa-Core che già ve l'ho parlato poco fa sono caratteristiche che sono rimaste invariate poi raga un'altra delle cose che diciamo hanno anche fatto un po' storcere il naso è la durata della batteria perché a fronte di una durata di 6,5 6 ore e 50 minuti quindi siamo là più o meno quasi 7 ore anche lì a fronte di un 6 ore circa tattabili proprio è stata aumentata la batteria fino a 7 ore di anatomia quindi un'oretta in più anche proprio alcuni test sempre che ha ufficializzato Nintendo tramite il direct ufficiale sul proprio sito se noi giocheremo di continuo a per esempio uno dei giochi più pesanti su Nintendo Switch ad un Zelda Breath of the Wild possiamo giocare fino a 4 ore consecutive rispetto alle 3 ore consecutive testate sulla Nintendo Switch standard qui diciamo raga adesso entrano le considerazioni personali se oggigiorno dobbiamo giocare cioè se tu mi restringi lo schermo mi restringi lo schermo la risoluzione è sempre 720p per 30fps quindi se d'altronde mi riduci lo schermo la risoluzione è la stessa e diciamo per giocare quell'oretta in più mi togli la possibilità di estrarre i Joy-Con mi togli la possibilità di collegarla ad un dock o tramite HDMI e collegarla alla TV per giocare attraverso la TV per vedere il gioco a grande schermo diciamo che secondo me per ora non ne vale la pena questa è una mia considerazione personale raga poi ci sono persone che magari come anche attraverso il direct dicevano io non l'ho mai collegato il dock ma non l'ho mai usato queste cose qui quindi lì ci può stare però d'altro canto raga parliamo adesso di uno dei pezzi del pezzo più clou diciamo è del prezzo a fronte di nintendo switch standard che fu messa sul mercato a 330 euro la nintendo switch light sarà messa sul mercato sui 230 euro circa quindi 100 euro in meno 100 euro in meno rispetto alla console standard diciamo che sul prezzo siamo d'accordo perché a fronte di tante limitazioni eccetera ci sta che il prezzo sia 100 euro in meno quindi raga anche un po' il discorso personale perché se voi siete i tipi che la usano proprio a livello portabile con portabilità al 100% allora fa al caso vostro se invece siete i tipi che ogni tanto il pensiero di poterla collegare alla tv piace allora a questo punto restate con la console standard a questo punto niente raga il prezzo anche ve l'ho detto da 330 siamo passati a un 230 o 240 euro raga perché io qui mi sono segnato delle cosine adesso sto vedendo prezzo variabile dai 230 ai 240 la data di uscita ufficiale raga è il 20 settembre 2019 per la versione standard del nintendo switch light e invece la versione con pokemon spada e scudo in uscita l'8 novembre 2019 i colori ufficiali sono tre giallo grigio e azzurro secondo me il più bello è l'azzurro però raga ognuno di noi ha i propri gusti e sarà messo in vendita sia al prezzo di 200 euro 220 euro standard e con l'aggiunta di 20-30 euro in più la versione deluxe che include anche pokemon spada e scudo quindi raga che dire fatemi sapere la vostra sotto nei commenti se voi siete impazienti di bene ragazzi ragazzi per questo video è davvero tutto vi ringrazio per essere stati in mia compagnia qualora vi fosse piaciuto il video vi invito ad iscrivervi al canale lasciare un bel pollice condividere il video sui vostri social attivate la campanella perché è fondamentale per non perdere nessun altro video vi invito a seguirmi su instagram vi lascio tutti i link in descrizione link for my instagram in description ci vediamo alla prossima a modo che vi voglio bene ciao da Insight to Games grazie a tutti i link